Il periodo che stiamo vivendo porta all'attenzione l'efficacia delle operazioni di pulizia e sanificazione negli ambienti dove andiamo ad operare. Questo significa che dobbiamo eseguire delle procedure ben precise con dei prodotti e dei sistemi innovativi che possono dare delle garanzie ai nostri clienti. Dal punto di vista normativo la parola sanificazione comprende quella serie di procedure di pulizia e disinfezione che devono essere poste in atto dalle imprese di pulizia per poter garantire che la sanificazione sia eseguita a regola d'arte. I dispositivi sono molto semplici da utilizzare e vanno dal portatile fino al dispositivo carrellato per le grandi superfici. Alla macchina si aggiunge un disinfettante ad ampio spettro biocida che ha la caratteristica di essere di facile utilizzo e immediatamente solubile in acqua. Quando noi sanifichiamo un ambiente con questo sistema e vogliamo avere un effetto virucida è sufficiente un tempo di contatto di 30 minuti e possiamo riutilizzare l'ambiente senza problemi per la nostra salute, ovviamente dopo aver aerato gli ambienti come previsto dalle normative. Il prodotto disinfettante non è costoso ma soprattutto dà la possibilità di poter certificare l'intera sanificazione anche perché si tratta di un presidio medico chirurgico. Con questo sistema sicuramente si aprono delle nuove opportunità di business anche perché noi abbiamo la possibilità di abbinare un nuovo sistema, un dispositivo a frammentazione molecolare con un principio attivo che comunque è ad ampio spettro biocida e quindi ovviamente anche virucida con dei costi molto bassi ma che permette di poter entrare in un mercato nuovo che ne ha bisogno. Il principio attivo è la cloramina T, un prodotto veramente interessante per le sue caratteristiche è unico perché pur avendo un ampio spettro biocida quindi attivo su tutti i tipi di micropianismi non danneggia i materiali e dà un bassissimo impatto ambientale. L'utilizzo della macchina deve essere fatto da tecnici qualificati ma la qualificazione consiste nel corso che comunque è previsto dal testo unico 81 e che ha una durata di due ore. Il dispositivo è un generatore di nebbia secca a frammentazione molecolare del principio attivo disinfettante. In pratica è come un aerosol quindi estremamente semplice ma efficace. Inoltre un altro aspetto veramente interessante è che siamo in grado di tracciare la sanificazione eseguita attraverso un'app in cloud.